Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, siamo su A Plague Tale Innocence, andiamo avanti, capitolo 12, tutto ciò che rimane. Dobbiamo cercare le medicine per Ugo, che si è tanto aggravato. Ovviamente Lucas, per essere un ragazzino, ha una maturità fuori dal comune. Beh, non avevamo dubbi, insomma, che la strada fosse la stricata di pericoli. Vediamo se possiamo fare qualcosa anche come miglioramenti, no, però non manca tanto per fare alcuni miglioramenti. Siamo pieni, niente, siamo pieni, vabbè. Sento il rumore di ratti, e manco vogli. Eh, stanno impegnati, lasciamo gli impegnati. Effettivamente Lucas, con la sua curiosità, è inquietante, però è anche vero che, insomma, è un alchimista, insomma, uno scienziato potremmo anche dire, no? Che schifo, che schifo, che schifo, mamma mia. Damose. Ok, questo era il ponte che abbiamo superato. Eccala. Eh, che vuoi far? Facciamo il giro, speriamo che si possa fare il giro. Sono qua sotto, no? E ci attacchiamo. Dobbiamo andare ancora oltre. Sassi. Addio. O come direbbe Canavacciolo, addios. Ora dovrebbe essere libera la strada. Per molto poco, ma è libera. Allora, io intanto accenderei qua il fogherellino. Che dite? Che dite? Aspetta, aspetta, ma qua ci sta qualcosa prima, fammi, fammi guardare. Oh, cavolo. C'è la morte là dentro. Eh, sta pieno. Come facciamo? Come facciamo a passare? Come facciamo a passare? Qua dentro mi sa che serve la luminosa. La facciamo? Sì, non so come farla... Così. Ha funzionato? Penso che questo fosse l'unico modo possibile. Credo. Però, per quanta roba ci sta... Mi sa che abbiamo fatto bene. Cioè, veramente, è un sacco di roba. No, abbiamo fatto bene. Vediamo se possiamo migliorare ora qualcosa. Credo di sì. No. Niente. Abbiamo preso duemila cose e ancora non possiamo migliorare niente. Ci serve un'altra di pelle. Allora. Vorrei, prima di tutto, entrare in questa casa. Quindi, se lui mi lasciasse il cavolo di coso... In caso contrario, dovremmo utilizzare luminosa. Vediamo se possiamo farlo dopo. Eh, mi raccomando, eh. Mi raccomando, non fare cavolate. Oh. E mo'? Mamma mia, mamma mia. No, no, non mi dimentico, però aspetta un secondo, eh. Aspetta un secondino, che... Con calma facciamo tutto. Certo, veramente, che queste luci mettono un'ansia. Cioè, coprono uno spicchio veramente... Piccolissimo. Ok. Aspetta, aspetta, Lucas. Aspetta un momento, eh. Qua. Ci sta ancora altra roba da... Da fare. Ah, questo è solo verso sotto? No, e allora serve per forza la luminosa, qua dentro. Per forza la luminosa. Che... Che significherebbe... Levare del... Della pelle, che ci serve per fare qua questo. Per carità, magari ne ritroviamo altra là dentro, però... Cosa ci sta là dentro? Eh, qualcosina c'era dentro. Dai, eh... Facciamo finta che ne valga la pena. Speriamo che ne valga la pena, più che altro. Ok. Prendiamo anche le risorse che qua avevamo lasciato. Speriamo di non bruciare vivi. Oh, cazzo. Ma qua ci stanno i sorci. Ma ci stanno i sorci. Lucas. Lucas. Nooo. Nooo. Ma scusa, ma la luminosa. Ok ragazzi, eccoci tornati qui. Abbiamo fatto uscire Lucas. E... Ho rifatto tutto molto in fretta. Ho preso anche delle risorse là dentro. Che però non ci permettono comunque di... Di fare nulla. L'unica differenza è stata che... Che in pratica, prima di buttare la luminosa, ho utilizzato... Odoris. Quindi li ho... Cumulati tutti nello stesso punto. Alguien! Helpmi! I rati! Tu! Dicami! Quanti di voi sono là? Oh, mi fa male. Non voglio morire. Non come questo. Come questo? Tu hai esecutato la mia famiglia. Tu rispondi una morta dolorosa. Por favor, abbia merda. Non ti usare mai questa parola. Non mi farò mai usare nulla di lui. Possiamo ucciderlo? O lo lasciamo qui? No ragazzi, noi lo uccidiamo. Basta, questo... Sta cercando... Stanno cercando in pratica... Di ucciderci tutti. E come cazzo, Peterina? Passiamo noi? Come... Come facciamo a passare? Non ne ho idea. Aspettate, se io li accumulo tutti da un altro lato... Tipo... Tipo là? Che dite? È là. Ti ammazziamo tutti, eh? No, merci. No, merci. Lucas ci guarda male. Ci guarda male, Lucas. Ha anche ragione. Siamo... Cioè, degli assassini. Però... Ragazzi, la... La... La cosa... Cioè, loro non ci avrebbero risparmiato. È tutto il... Il tempo che cercano di ucciderci, no? Allora, qua dentro probabilmente serve la luminosa... Eh... Senza se... Né ma. Almeno credo. Spero di non... Di non buttare risorse. Spero che, essendo tutti qua, con un colpo di ucciderli tutti. E non come prima che ne sono rimasti 200. Ok. Ah, che caspita. Qualcuno c'era però, mi sa. Ho visto un sorcio là dietro. Un sorcio malefico. Allora. Adesso... Dobbiamo arrivare lì. Intanto continuiamo a prendere roba. Non si capisce come. Non possiamo mai potenziarci. Ma vabbè. Facciamo una cosa. Intanto qua c'era... Odoris dura più a lungo. Questo lo potremmo fare, effettivamente. Però cos'è che ci manca qua? Ah, qua ci manca solo il San Nitro. Qua ci manca... Ok, ci mancano però degli elementi comuni, effettivamente. Per fare i potenziamenti. Quindi potremmo... Potremmo risparmiare un pochino. Facciamo un secondo così. Io mi chiedo, ma se uno non ha le risorse per fare questi... Per fare le pozioni. Che fa? Si attacca. Ok. Fa qualcos'altro l'abbiamo trovato. Molto bene. Molto bene. Vediamo se adesso abbiamo i... Ancora no. Qua non c'è niente? Ma proprio niente, niente? O già l'abbiamo preso? Non mi ricordo. Ok, allora adesso utilizziamo un'altra Diodoris. E... Ah, attenzione. Questa non l'avevo vista. Utilizziamo un'altra Diodoris. Per andarcene. Veloce però, veloce. Veloce però, Amicia. Molto bello da vedere, comunque, ragazzi. Molto bello. Davvero. Cioè, bello visivamente, però... Pesante. È... Il tuo padre? Amicia! Oh, mamma. Ma io non li vedo... Ah, sì, ora li vedo. Eh, già l'ho finito, eh, lì, Grimper. Cazzo, ma non si vedono, però, sti cosi, eh. È finito? Madonna, tra l'altro stavo indietreggiando, stavo andando ad ammazzarmi. Sì, sì, dammi la torcia. Ok. Prima di... Di andare avanti, verso la strada... Corretta. Andiamo a vedere se possiamo raccogliere qualcosina qua. Perché la dovrei appoggiare? La torcia? A che serve? A che serve appoggiarla? Boh. E qua c'è qualcosa? Ma dov'è il padre? Non so dov'è che lo veda il corpo del padre, però... Ci fidiamo di lei. E comunque veramente i ratti si stanno... Si stanno moltiplicando a dismisura. Eh? Quindi... La situazione è veramente... Drammatica. E quello che dicevo dall'inizio, ancora... E come dicevo, come dico dall'inizio del gioco, Il vero dramma... Poi non è l'inquisizione. Non sono le persone. Il vero pericolo... È quello naturale. Quello della... Della peste. Eh però scusami, Lucas. Tu che sei un alchimista... Cioè prendi un campione del sangue di sto tipo. Che è l'unico che non viene mangiato. Non per dire, ma... Cioè dovresti cercare di capire il perché non viene mangiato. Non sei un grande alchimista, eh? Scusa la sfiducia, però... Mi sembrano proprio le basi queste. Ok, credo non ci sia altro... Da prendere. Mamma mia. Che schifo. Questa era a casa nostra, eh? Eh, che succede? La cosa bella è che io non mi ricordo niente di questo titolo. Cioè nel senso mi ricordo poco, quindi alla fine anche io sono... Diciamo in semi-blind, perché fortunatamente mi sono dimenticato le cose. Quindi anche io non mi ricordo perché questi non vengono toccati dai ratti. Cerchiamo di non farci mangiare. Allora. E addio torcia. Io l'avrei ripresa, eh? In un modo o nell'altro. Aspetta, l'ignifer io lo vorrei. Perché onestamente... Aspetta, aspetta. Abbiamo qualcosa adesso. Permette due colpi di fila senza dover ricaricare. Wow. Materiali si va. Facciamo questo, assolutamente. Assolutamente. Quando vedete questi piccoli freeze è perché sblocco degli obiettivi, ok? E quando sblocco degli obiettivi in pratica... Si freeze per un secondo. Non so se è una cosa che succede solo a me, ma non credo. Perché non mi succede solo con questo PC. Mi succedeva anche prima. Quindi... Anche col PC di prima. Quindi penso sia proprio un discorso di Xbox. Che freeze per un secondo il game. Allora, di qua potremmo passare, effettivamente. Aspetta un secondo, però. Perché prima di fare questa cosa... Non possiamo andare di là e accendere quelle robe? Per andare a vedere cosa c'è? No. No, a quanto pare no. Non si può fare. Allora, niente. Seguiamo il percorso prefissato. Questa è la stanza di Ugo. È rimasta intatta. Totalmente intatta. Questa è di così. Questa è la stanza di... Questa è la stanza di... There has to be something else, another place, another room. Not that I know of. You can't just make an Opus Magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, he bit his laboratory away from prying eyes, so your mother must have also... She told me nothing. I never saw her. But that's it. Isn't there a place where she didn't want you to go? I don't know. Some place she protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins? Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden! Let's go! Cazzo, ma io non ho più Ignifer. Eh, andiamo, andiamo, andiamo. Vieni, Lucas, vieni. Tranquillo. Io qua tra un po' finisco le risorse per fare l'Ignifer, eh? Ve lo dico. Quindi basta, sti cosi. Questi non me li ricordavo, questi... ...ragruppamenti. Eh, eh... che dobbiamo fa'? Dove dobbiamo andare? Ah, di qua. Ok. Eh, te pareva. Te pareva, non avevo dubbi. Si pare che avevo dubbi che erano... ...che erano da quel lato. Ma proprio manco mezzo. Ah, sì, prendiamolo un fiorellino, visto che la situazione è tranquilla e piacevole. Ma Ugo sta morendo, ma figurati che cazzo gliene frega del fiore. Sta a pensare al fiore, no, Ugo? Allora. Allora. Possiamo... ...incendiare. Ma io non ne ho così tanti di Ignifer. Possiamo incendiare quelle e poi correre, eh? Non ne ho più, non ne ho più. Non ne ho più. Ok, questo sta fermo. Cioè, questo qua non si spegne, vero? Quali munizioni? Vabbè, vabbè, amen. Preparo le munizioni, mi ha detto, quindi... ...noi prepariamo un po' di munizioni. Speriamo bene. Intanto accendiamo il fiorellino. Sicuro ci saranno gli aggregati, la... Quelli che si formano giganti. Quelli che si formano giganti. Oh. Oh, cazzo, ma io l'ho tirato. Ma già l'ho finita le munizioni, eh? Vedi che devi fa? E basta. E basta. Sì. Stai. Guardi e guardi, tu non vai morire Lucas, nessuno morirà prima di riuscire a quell'arrivo. E' come... se abbiamo deciso che... ...se che ci siamo riusciti, le nostre vidri saranno diventati da... ...Caos. Ma io sono l'unico con la scuola, quindi calma e riuscire. E sto facendo proprio questo. Oh cazzo ancora Ma proprio qua davanti C'era spawnato Sto coso Non ne ho più eh Basta Ho finito le munizioni Vieni Lucas Bravissimo Bravissimo Ce la fa più Poverino Certa misia sta facendo la spacchiosa Del tipo ah si bello Sei stato bravo Adesso andiamo Quello sta morendo Cioè ha spinto Da solo un carro pesantissimo Avrà tipo Quindici anni Quattordici anni Sto tipo LUCAS Ok Ancora non abbiamo scoperto Perché non Non vengono toccati Tutti quelli che vivevano In questa casa Quasi tutti Che il padre È stato devastato Ahia aia aia Ci stanno i sorci Non le avevo visti Ora l'ho pure sentiti Niente potenziamenti Tra l'altro abbiamo anche Relativamente poche risorse In questo momento estinguere il fuoco Non credo ci servirebbe a qualcosa Questa che serve Questo va spinto Ok Vediamo prima di spingere Il coso Cosa dobbiamo fare qua Non Ok, ok. Bello questo affresco. Sembra parli tipo di peste, cioè gente morta, così come ne stiamo vedendo... Tanta. Allora, e... Aspetta, ma se noi... No, no, non è stata una... Non è una grande idea spostare il coso. Momento, momento. Allora, vuoi vedere che moriamo se lì? Aspetta, aspetta. Se noi leviamo il coso ci ammazzano, cioè c'è poco da pensare. Se noi leviamo questo che li blocca ci ammazzano. Come li blocchiamo dall'altro lato della luce? Corri, corri, corri. E mo' questi? E mo'? E sti... Sti ratti di merda? Oh, oh. Ma che fa Lucas? Mi spinge verso i ratti. Sto rincoglionito. Allora, noi possiamo effettivamente spingere i ratti... Tipo là sotto. Ma questi non passano però. Cioè, questi qua non passano. Questi ci ammazzano. Come facciamo? Come facciamo? Eh. Bella domanda. Ma non possiamo accendere una cazzo di torcia per caso? Niente ragazzi, mi sono suicidato. Va bene. Allora ragazzi, allora. Ho avuto un'idea. Ho avuto un'idea mentre che risentivo le stesse cose di prima. Spegniamo quella luce. Spegniamo quella luce. Dopodiché li attiriamo tutti, anche quelli che erano là sotto. Eh, di qua. Ok. E solo in questo momento... Accendiamo questa. Aspetta, aspetta. No, così ci ammazzano. Aspetta. Intanto sono tutti dall'altro lato... Della luce. Adesso. No, veramente non abbiamo un cazzo di risorsa. Adesso sono tutti dall'altro lato della luce. Conviene. Questo è Odoris, sì. Conviene mandarli tutti qua. E poi spingere, 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 spingere. Dai Lucas, dai Lucas. Ok. Addio. Aspetta, aspetta. E' impazzito, è impazzito. E' impazzito. E' impazzito. E' impazzito. E' impazzito. Ok. 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 E' impazzito. E' impazzito. E' impazzito. Ok. 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 Dopo che scendo? Che faccio? Che faccio? Ah. Chi l'aveva visto? Ok. Bene. Ok. Destra o sinistra? Chi lo sa? Chi lo sa? Partiamo di qua, dai. Eccola. Siamo già morti? Corri amici, siamo ortacci tuoi. Allora, allora. Ugo non ho capito che indicazioni ci dia, onestamente. Cerchiamo di muoverci. Accendi, accendi. Eh, da che lato? Da che lato? Da che lato, Lucas? Perchè mi aspetto? Ah, ok. Ora è giusto. Eh. Ok. Eh, dove caspita era ora il ritorno? Non di qua. Sì. Aspetta, aspetta allora. Hai ragione, non è questa la strada. Almeno abbiamo raccattato qualcosa. Oh, si muove più velocemente gattonando che andando dritta, mortacci suoi. Sì. Siamo arrivati, no? Quindi il leone. Sì. 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 Eh, per una volta. Visto che sei un alchimista. Eh, accendi però che cazzo, che non vedo niente. Oh, la luce. Oh, la luce. Oh, la luce. Sì. 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 E ti pareva che non era l'ultimo? Non avevo dubbi Oh cazzarola Sono finiti? Oh il cazzo Sono finiti? Ok posso tornare così Mortacci suoi Aspetta verso dove? Ah verso l'altro lato Giustamente Ah tutto il giro dobbiamo fare Che bello Oh cazzo Oh cazzo Oh no they don't Eh eh Ha fatto lui no? Bravo Lucas Proteggili da solo Oh Dai Lugas Dai Dai Lugas PORCA DROIA Ah però Si allontanano adesso Ok ok quindi ce l'abbiamo fatta E siamo tornati a Chateau d'Ombrage It's them It's them Our trainee alchemist has worked wonders We have the elixir I always knew you were a good one Thanks come on let's go see Hugo Pensa se cade Pensa se cade La nostra unica salvezza ancora di salvezza Hugo You're not sleeping Hey look We did it The elixir Lucas made it Here you go It might be a little bitter Never mind Drink it in one gulp Very good So am I cured now? Um well In any case You'll soon be a lot better Me sir Will we never see mummy again? Oh Hugo I told you She She won't be coming back No And it doesn't hurt Where she is No no Of course not Let's all go to bed now eh And tomorrow When you wake up You'll feel a lot better You'll see You'll see ? 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 Grazie a tutti.